Ben trovati con la nostra consulata la segna stampa settimanale di You Slow Web Radio anche questa settimana sono in conduzione con me Domenico Monterisi e Brigida Mulinelli oramai facciamo squadra fissa e non abbiamo ancora il nuovo governo però sembrerebbe che non ci siano più tanti ostacoli dopo lo straordinario quesito lanciato dal Movimento 5 Stelle mi pare che la votazione finisce alle 18 sulla piattaforma Rousseau non farò ironie anche se francamente mi pare scontata la risposta e se la risposta fosse negativa a questo punto sarebbe veramente una rivoluzione dentro il Movimento 5 Stelle ma diciamo è una domanda che prefigura una risposta e dovrebbe essere ampiamente affermativa altrimenti veramente da domani sarebbe un altro giorno dentro il Movimento 5 Stelle. Vediamo cosa ci aspettano diciamo anche i cambi all'interno della maggioranza la maggioranza sulla carta è già ampissima io continuo ad avere un dubbio penso che la Lega all'ultimo minuto si sfilerà però questa è come dire un'affermazione che non ha nessun riscontro dalle notizie andiamo oltre siamo oggi la notizia che apre gli online invece è sempre il Covid le regioni chiedono al governo di prorogare il blocco degli spostamenti questa è Repubblica Puntiti boccia possibile estensione fino al 5 marzo nel frattempo in Germania si discute di prolungare il lockdown a marzo sempre e sono partite le campagne per gli altri 80 sui vaccini questo è il tema che più o meno riguarda tutte le regioni hanno fatto questa cosa dei click per le prenotazioni online per cui ci sono orde di nipoti costretti dai nonni a dover prenotare online il vaccino una serie di regioni si sono bloccate le piattaforme vi risulta che è avvenuto qualcosa di simile in Molise ma probabilmente anche in altre perché poi le nostre piattaforme anche in Puglia benissimo affrontiamo questa cosa oggi in Sicilia un medico mi diceva che già partendo considerate queste prenotazioni arriviamo lunghi a fine a metà aprile con i vaccini almeno in Sicilia il che vuol dire che per la fascia successiva ai settantenni con fragilità già si allunga ancora di più ieri abbiamo incassato un complimento ma insomma involontario perché sembra la guerra dei poveri della commissaria europea che parlava dell'Italia insieme alla Polonia e alla Danimarca come paesi dove si è raggiunta un discreto livello di vaccinazione e in realtà stiamo parlando veramente di numeri risibili siamo dietro alla Spagna e dietro alla Danimarca per poche per poche percentuali come numero di percentuali di vaccinazioni e siamo però subito davanti ed è qui l'orgoglio italico al Germania e Francia quindi anche lì per lo zero qualcosa ma chiudendo la pagina del covid poi scopriremo se il lockdown di cui si parla per la Germania è quello che abbiamo conosciuto a marzo d'aprile io credo di no la gente penso posso uscire di casa quindi ogni volta si genera un po' questa confusione però lo verifichiamo perché questa cosa già si è prodotta quando si parlava che in Spagna eravamo in lockdown e io vedevo i bambini alla finestra di casa mia che giocavano a pallone quindi erano forme differenti di lockdown rispetto a quello che abbiamo conosciuto a marzo ma andiamo alla rassegna stampa di questa di questa di questa settimana abbiamo una rassegna stampa che parte da da temi più tecnici legati alla questioni della giustizia e poi magari se ci riusciamo andiamo a dare uno sguardo anche su questioni più generali se ci arriviamo con il tempo bene cominciamo con un articolo che ci commenterà Brigida Mulinelli i miei compagni di 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 trasmissione sono pugliesi entrambi quindi dalla Puglia allora oggi diamo un ampio spazio al dubbio il giornale della fondazione del consiglio nazionale forense sbarazzarsi dei tar diremmo addio pure al principio di legalità Enrico Nove il nostro giocollega bravissimo che ci dici Brigida allora sì Marco innanzitutto saluto i nostri ascoltatori le nostre ascoltatrici anche te e Domenico abbiamo scelto di partire dalla giustizia in questo marasma cui stiamo assistendo con diciamo questo nuovo governo che sta nascendo o sarebbe nascendo è un articolo del dubbio di Enrico Novi che pone questa domanda intervistando Mario Sannino che è presidente nazionale degli avvocati amministrativisti che in effetti è una replica a delle dichiarazioni di Carlo Nordio voce autorevole ex magistrato comunque una voce autorevole della magistratura cosa aveva detto Nordio? aveva detto proprio sulle pagine del dubbio in intervista che le amministrazioni sarebbero sono penalizzate perché ogni loro atto può essere impugnato davanti al TAR il quale molto spesso indica oppure concede una sospensiva e la sentenza arriva molto tempo dopo e ovviamente è un'affermazione diciamo provocatoria se non vogliamo considerarla grave a cui Nordio risponde sempre nella pagina del giornale in questa intervista se ci sbalassassimo dei TAR diremmo addio al principio di legalità in effetti perché mi ha colpito questo articolo perché in effetti tutto ciò che abbiamo anche persino del Tribunale amministrativo non è detto che rimanga così com'è nel bene e nel male e tutto può essere messo in discussione ci dicevi con Udi che il primo a mettere in discussione sempre in maniera forse provocatoria è stato proprio Matteo Renzi che è lo sponsor di questa nuova fase politica che aveva definito un inutile orpello la magistratura amministrativa quindi i TAR e Nordio ovviamente ci ricorda dell'importanza perché ovviamente senza i tribunali amministrativi diremmo addio ad un principio di legalità la tutela di tutti i cittadini e non solo di coloro che impugnano addirittura il Carlo Nordio aveva messo in discussione anche la natura delle sentenze del tribunale amministrativo definendole spesso ragionevoli imprevedibili e addirittura alludendo all'inutilità di un collegio giudicante ovviamente risponde l'avvocato amministrativista presidente del Mario Sannino che l'iragionevolezza delle sentenze spesso dipende e anche l'imprevedibilità agli occhi di chi le legge dipende dalle qualità delle norme che spesso sappiamo non sono proprio eccezionali ovviamente diciamo sottolinea l'importanza sociale per i singoli e per la società del tribunale amministrativo e sottolinea come non difenda una categoria che ovviamente è quella che lui rappresenta degli avvocati amministrativisti ma la tutela dell'esistenza di una giustizia amministrativa concorre a realizzare il diritto di tutti ad una buona amministrazione sembrano affermazioni scontate da palissiani ma quanto pare se sono messe in discussione da una voce appunto autorevole della magistratura come Carlo Norvio non sono possibili scontate e la palissiana ecco perché mi ha colpito insomma beh in questo senso vorrei ricordare che nel luglio del 2017 appunto citato Matteo Renzi aveva fatto una battuta sul no tar tour quasi cacofonico e all'epoca anche l'associazione la maggiore associazione dei magistrati del tar con Fabio Mattei che era all'epoca presidente rispose che erano pronti a organizzare una simplification tour che il no tar tour tutto il più era una battuta o la puntata è una brutta telenovela perché Renzi sbagliava obiettivo il nebico del sistema Italia e la burocrazia e non i tar in realtà non è solo Renzi poi ci fu uno scontro anche con Franceschini ricordate la famosa vicenda del direttore stranieri dei musei anche lì diciamo l'opinione pubblica si schierò in modo massiccio contro il tar è vero che i tar spesso intervengono su su questioni che per loro sono meramente tecniche che però hanno delle implicazioni politiche politiche significative però è vero e qui io direi che ha ragione tanto il presidente degli avvocati amministrati così come a suo tempo il presidente dei magistrati del tar se le norme fossero scritte meglio probabilmente come dire le interpretazioni più o meno corrette o pittoresche dei giudici sarebbero limitate siamo un paese che le scrive male le norme questo è notorio e quindi continuiamo come al solito ad avere questo fronte di scontro sui tar che è inesauribile e che colpisce attenzione centrodestra e centrosinistra a seconda di chi ha il governo di quel comune di quella regione o del governo del centrale del paese il tar diventa un avversario da colpire non ultimo c'è stata la vicenda delle visite domiciliari dei medici di famiglia non so se vi ricordate c'è stato un ricorso del Lazio il tar ha dato ragione a un piccolo sindacato di medici di famiglia perché dovevano funzionare le usca e quindi no e quindi di conseguenza però ciò che avveniva è che i medici di famiglia non sarebbero dovuti andare a fare le visite domiciliari ai pazienti covid apriti cielo chiaramente tanti medici di famiglia si indignarono poi il consiglio di stato ha ribaltato quella diciamo sciagurata eh decisione eh domenico dimmi Marco io devo però sollevare il tuo conflitto di interessi visto che da tifoso del Catania Calcio ricorderai la celebre sentenza del Tar Catania che riammise il campionato di Serie B il tuo è vero Catania però sono passati tanti anni esattamente infatti io difendo il Tar eh anche sapendo di avere un pieno conflitto di interessi già sono così così corretto e onesto su altri conflitti di interessi su questo va bene me lo riconosco ok mia colpa ma io ricordo anche un intervento di Pruni qualche anno fa contro i Tar sempre in materia di affalti sì sì ma se facciamo una lunga lista troveremo decine di interventi veramente di tutti i politici a tutti i livelli a Carlo Nordio è un ex magistrato storicamente vicino al centrodestra diciamo che che prende questa posizione diciamo questa è è trasversale evidentemente nella giustizia amministrativa c'è qualcosa che forse non funziona però allo stesso tempo verrebbe da dire che che bisogna fare delle norme che rendono più semplici la macchina il funzionamento della macchina pubblica però su questo è evidente che potremmo aprire un capitolo enorme perché c'è il tema dell'anticorruzione noi abbiamo fatto abbiamo costruito un mondo dove per fare fare un appalto poi trovi 3.000 forme per raggirarlo però per fare un appalto è un campo minato ma all'epoca in cui vennero fortemente elevati i contributi unificati in materia di appalti delle cause di appalto ci fu una sollevazione all'epoca anche della politica forense dell'OUA anche perché da un lato ci si lamentava per l'eccessivo intervento del giudice penale in quelle procedure dall'altro lato quindi con indagini dall'altro lato se veniva meno soprattutto per il piccolo concorrente alla gara di appalto la possibilità di adire il TAR era giocofrezza che si rivolgesse con un esposto querela alla procura della repubblica e di lì forse danni addirittura peggiori del ricorso al TAR accolto o rigettato quindi evidentemente non è così semplice come la fanoid o la questione e mi pare che l'avvocato Sanino abbia in questa questione diciamo sicuramente più ragioni da esporre assolutamente io sono su questo siamo tutti sulla stessa linea il TAR comunque rimane l'unico tribunale contro gli abusi della pubblica amministrazione a cui si possono rivolgere tutti se lo rendi irraggiungibile la pubblica amministrazione può fare dei abusi già sarebbe un problema da abusi ad abusi diciamo così o comunque a grandi mostri nel mondo della giustizia c'è un articolo invece molto interessante su una sentenza su Apple che invece ci commenterà domenico l'articolo è uscito di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera del 10 febbraio leggiamo il titolo Apple dia ai genitori i video del figlio morto Milano l'ordine di fornire i contenuti dello smartphone il colosso web si era rifiutato diciamo subito che Apple non si è difeso in questo giudizio quindi è stato un giudizio quindi evidentemente quando si era rifiutato era stato un rifiuto diciamo di tipo stragiudiziale rispetto a una richiesta formulata dai genitori di questo ragazzo che è deceduto di un incidente stradale e i genitori hanno chiesto appunto di poter ottenere i contenuti e quindi i video le fotografie per avere un ricordo di questo ragazzo e quindi tutto quello che era contenuto nella memoria che è conservata su cloud di Apple perché il telefonino era andato distrutto nell'incidente stradale in cui era morto il ragazzo è chiaro che questo apre un tema molto importante molto complesso di cui anche noi come radio che come voi sapete ha una certa predilezione per i temi del diritto in tema appunto di elettronica di internet perché si paella sostanzialmente di eredità digitale ci sono autorevoli autori che si sono occupati del tema non c'è ancora una normativa diciamo di sistema per cui anche i giudici in questo caso quelli del tribunale civile di Milano sono chiamati a interpretare a trasfondere nel diritto elettronico i principi base del diritto civile e quindi anche quelli appunto sul diritto di succedere nella proprietà di dati è un tema appunto interessantissimo e tra l'altro vi anticipo che Angelo Maestro ha già contattato i legali della famiglia che ha ottenuto questo provvedimento e a brevissimo quindi ne traremo una intervista che andrà sulla nostra trasmissione di punta svegliati avvocatura della mattina alle nove Marco l'audio certo che questo apre scenari interessanti non è solo la questione personale umana di una famiglia alla quale il buonsenso direbbe come non gli dai i dati ma stai scherzando ma è quello che ne può conseguire dal punto di vista della cosa di quei dati la vicenda di qualche anno fa quando in un telefonino bloccato e che quindi Apple non voleva sbloccare l'FBI cercava i dati per incolpare un criminale e Apple resistette molto poi ci fu un intervento forse addirittura della Costa Suprema Americana che costrinse Apple a sbloccare questo cellulare e quindi a consentire l'accesso a dati poi necessari per l'indagine penale che era in corso il tema evidentemente non è così semplice perché bisogna anche capire qual è la natura dei beni dei dati ci sono alcune sentenze italiane che li equiparano a beni mobili anche se c'è molto dibattito sul tema e la soluzione è tutt'altro che scontata cambiamo argomento ritorniamo con Brigida Molinelli però rimaniamo al dubbio Vittorio Manes la prescrizione civiltà giuridica la spazza corrottina e la negazione il governo non ignora la giustizia penale anche così si salva l'economia l'articolo è di Simona Musco che dice che rispetto a cosa ci pone l'attenzione Manes Marco e qui è sempre rispetto a un'intervista a Manes che è ordinario ricordiamo ordinario diritto penale all'Università di Bologna che pone l'attenzione sulla necessità che il governo nella propria scala il nuovo governo nella propria scala di priorità insiedisca anche la riforma del processo penale perché il timore è che questa riforma tanto agognata e soprattutto rispetto alla sospensione di alcune leggi introdotte dall'ultimo governo ovvero quella sul blocco della prescrizione la spazzacorrotti che la l'acqua potrebbe diciamo lasciar correre perché sono temi abbastanza sfinosi invece o perché sembrerebbe di primo acchito che la riforma del processo penale non impatti immediatamente sulla nostra economia cosa che non è non è pera ovviamente non sono nessuno ma concordo con Vittorio Manes che appunto ci spiega come la giustizia penale coinvolga e travolga diritti fondamentali dei singoli e spesso ha conseguenze incapacità anche desiziali dice anche per le imprese quindi è di immediato impatto anche sul tessuto economico che probabilmente è tanto caro a chi governa chiunque governi e immagino soprattutto a quello che al governo Draghi diciamo è un istituto per quanto riguarda la prescrizione ricorda come sia un istituto che garantisce un preciso equilibrio nei rapporti tra cittadino e stato dunque la priorità per Draghi secondo Manes dovrebbe essere inserire la riforma del processo penale nella propria prima scaletta in quanto il processo penale rappresenterebbe il sismografo dello stato di diritto oggi dice Manes una frase che mi è piaciuta molto oggi si punisce moltissimo in astratto e si persegue moltissimo in concreto con un gap spesso eccessivo tra processi instaurati e sentenze di condanna ad un costo elevatissimo per i soggetti che comunque vengono coinvolti e travolti nel procedimento oltre che una complessiva perdita di autorevolezza e di fiducia dell'amministrazione e della giustizia quindi da un lato diciamo un impatto col tessuto economico un impatto con le persone ma anche con un processo penale che non funzioni che non sia adeguato ai tempi non togliere autorevolezza alla magistratura e quindi è un auspicio affinché diventi appunto la priorità del governo mettendo al centro la persona anche questa conclusione mi è piaciuta molto la persona prima e più in alto di tutto e nella medesima prospettiva l'imputato che si presume innocente e questo non è scontato perché abbiamo sentito di tutto ultimamente proprio da chi avrebbe dovuto diciamo rappresentava la giustizia quindi devono essere posti a riparo dal rischio sempre dietro l'angolo di possibili errori giudiziali rischio da scongiurare con tutti i presidi di garanzia possibili un sistema di giustizia penale che metta a riparo i talentuomini come li definiva Carrara dall'avvesazione del potere punitivo statale e che tuteli l'innocente con ogni cautela non è solo un bene in sé ma garantisce anche la fiducia dei cittadini nella giustizia e quindi la legittimazione della magistratura stessa questa è la confusione che a me è piaciuta molto perché di questi tempi è bene ricordare come la garanzia per l'innocente che tale si presume fino a una sentenza definitiva eventualmente di condanna sia una garanzia per ogni cittadino e che quindi un processo penale giusto cioè il citofono che suona sia diciamo utile per tutta la società economia compresa grazie Brigida mi sembra questo un argomento di grande interesse vediamo se questi temi legati proprio ai diritti poi veramente hanno una ricaduta poi nell'azione di governo perché veniamo appunto da molti anni dove diciamo qui abbiamo siamo tutti d'accordo anche se da diversi punti di vista veniamo da anni di taglio 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 di diritti restrizione compressione degli spazi degli spazi nel processo e anche fuori dal processo di diritto di processi mediatici eccetera e sempre su questo tema della prescrizione invece abbiamo un articolo più tecnico no domenico del sole 24 ore sì di Giovanni Negri del sole del 10 febbraio e Giovanni Negri racconta dell'esistenza ormai nota di alcuni emendamenti alla legge di conversione del decreto mille proroghe che in questi giorni sarà all'esame del Parlamento e in cui appunto si sospetta la sospensione per un ulteriore anno della prescrizione scritta dal ministro Bonafede in attesa appunto che si realizzi la riforma del processo penale alla quale era stata legata se ricorderete la prima sospensione quella prevista quando la legge approvata sarebbe sarebbe andata in vigore dopo un anno quell'anno passò senza che si fosse potuto mettere mano definitivamente alla riforma del processo penale la nuova prescrizione infinita aggiungo è già in vigore e si propone un'ulteriore sospensione il più diciamo attivo sul campo è l'onorevole Costa di azione Enrico Costa scrive Giovanni Negri questione incandescente dalla quale è prevedibile che il nuovo premier vorrà stare alla larga ma che in qualche modo andrà affrontata anche perché di fronte alle già pervenute prime sollecitazioni soprattutto da fonte PD per una pausa di riflessione con il ritiro degli emendamenti la risposta è stata negativa e qua c'è una delle contraddizioni del PD ricorderete che per salvare il governo Conte Ter e quindi avere l'adesione di Renzi o meglio per salvare il Conte 2 più esattamente Orlando tirò fuori un lodo che diciamo per ammorbidire la posizione la posizione di Renzi sulla giustizia prevedeva una sospensione quella semestrale adesso la sospensione che propone Costa e altri emendamenti similari è di un anno e il PD che evidentemente è in imbarazzo con l'alleato pentastellato propone di chiedere il ritiro consapevole del fatto che si rischierebbe di votare a favore dell'emendamento in cattiva compagnia scusate il linguaggio perché si dovrebbe votare con protagonisti della presunta nuova maggioranza e quindi non soltanto Renzi ma anche Berlusconi Salvini e probabilmente la stessa Meloni sarebbe favorevole a una sospensione della prescrizione e quindi capiamo bene che si tratta di un argomento di estrema diciamo pericolosità per la nuova compagine governativa perché la prescrizione è una delle poche bandiere rimaste ai 5 stelle molto prudentemente il presidente incaricato non ha affrontato il tema della giustizia penale onde l'opportuno richiamo del professor Manes io credo che non sia cattiva volontà di affrontare il tema ma sia diciamo opportunismo nel non trattarlo in questo momento in cui sta nascendo il governo accomunando sotto un unica diciamo sotto un unico tetto sensibilità così diverse io ho il mio unico dubbio che legham e fratelli d'italia abbiano intenzione di modificare la prescrizione penso che se ne staranno buoni non entreranno nel merito loro in realtà sono stati dei sostenitori di questa di questa non sono stati degli oppositori di questa di questa riforma però sai in questo movimento 5 stelle che oramai ci sta abituando a qualunque tipo di trasformazione chissà magari si aprono degli spazi non previsti però è vero che come titolo anche il dubbio che oggi stiamo citando moltissimo la giustizia in vietnam draghi pronto a lasciare a partiti il parlamento un altro articolo di enrico nove anche in questo caso brigida ci commenti ci commenterà quest'articolo draghi lascerà i partiti il loro fight club sì l'asse diciamo forza italia italia viva e sicuramente rappresentano un pezzo di parlamento però per costruire una grande maggioranza sarà necessario anche anche il PD draghi per draghi sarà un problema prescrizione CSM carcere sono temi divisivi a te eh sì Marco infatti questo l'articolo che avevo avevo inquadrato si collega esattamente a quello che diceva Domenico e eh di cui parlano forse un po' tutti i giornali la giustizia è un Vietnam e quindi il il draghi sapientemente è da bravo politico perché come dicevamo l'altra volta draghi sta facendo politica in queste in questa fase di consultazione e di consultazioni e quindi lascia fuori da ogni eh dagli incontri il tema della giustizia perché sa bene che eh non ci sarebbe impossibile trovare oggi un accordo sui temi giustizia quelli che a cui accennavi eh c'è il il la la sospensione il blocco di questa legge sulla prescrizione la riforma del CSM sappiamo che eh c'è un ehm c'è una proposta eh che è quella della nomina eh a sorteggio dei componenti CSM per la magistratura della magistratura eh ci sono c'è la riforma delle carceri c'è la separazione delle carriere sono tutti argomenti eh che non troverebbero un accordo tra eh le forze politiche in campo e che quindi diciamo assolutamente viene lasciato al Parlamento dopo che eh farà il da un lato probabilmente ritornerà al centro come giustamente dovrebbe essere in una eh repubblica parlamentare come la nostra dall'altro poi ci saranno sicuramente ehm liti e contrasti come ci sono stati sino ad oggi però come dicevamo prima di iniziare questa la trasmissione Marco probabilmente ci possono essere novità ci si può aspettare di tutto da queste forze politiche che non sono più così ehm così rigide nelle proprie posizioni così farrebbe come abbiamo visto eh Salvini diventare eh vero o falso che sia europeista e votare comunque in Europa in Europa il eh recovery fund l'abbiamo eh potremmo vedere un movimento 5 stelle che fa un passo indietro sulla prescrizione oppure una una destra più morbida sulla riforma delle carceri e e sulla separazione delle carriere vedremo un altro tema non ce l'abbiamo presentato negli articoli ma Domenico tu lo dicevi era il tema della separazione delle carriere e ne parlava Liana Midella magari lo affronteremo in un secondo in un secondo momento ma sarà un altro terreno di scontro anche se anche su questa questione in realtà le posizioni sono trasversali ai partiti non è così chiaro e questo non aiuta eh la la discussione perché eh i favorevoli alle separazioni delle carriere sono un po' minoranza dentro eh al Parlamento per alcuni è la panacea di tutti i mali eh in realtà meriterebbe un approfondimento spesso si cita anche l'America a sproposito su questo tema su questa questione della separazione delle carriere poi magari ora con causa del lockdown siamo stati costretti a vedere decine di serie su Netflix o sulle altre piattaforme quando vedi questi pubblici ministeri eh voler condannare una persona comunque perché c'è una questione statistica che se non hai x condanne poi non vieni rieletto sinceramente uno quasi quasi si tiene eh la giustizia italiana fa un po' paura c'erano alcuni documentari interessanti che ho visto per esempio sul tema della droga negli Stati Uniti no? non so se avete visto c'era questo sul crack eh per cui eh fumare marijuana era più pericoloso che consumare cocaina e che l'eroina è stato più perseguito a livello poliziesco e quindi questi eh più che giudici più che pubblici ministeri sembrano degli sceriffi in realtà che riempiono le carceri di di poveracci eh per fare appunto volume più che qualità nella lotta nella lotta alla criminalità organizzata però vabbè insomma senza bianco e negro sicuramente affronteremo questa questione da separazione delle carriere cambiamo di d'argomento ma rimaniamo sempre sulla politica domenico oggi sul sole ventiquattro ore eh c'era un articolo diciamo di proposta eh di Angelo Ciancarella Angelo Ciancarella è uno storico giornalista eh del sole è stato portavoce eh del ministro Flick eh alla corte l'ufficio stampa alla corte costituzionale insomma uno che ha ricoperto incarichi anche nell'ANM come ufficio stampa e parla di una questione di grande interesse nell'agenda politica del prossimo governo sì eh passiamola per provocazione diciamo così e devo dire che gli amici di politica agli amici di politica forense questo articolo deve essere sfuggito perché altrimenti avremmo trovato eh mille polemiche sulla sulla pagina eh dico questo perché la proposta eh di Ciancarella eh che è un conoscitore della materia è eh veramente dirompente una sorta di privatizzazione della dei tribunali per le dell'economia con la costituzione appunto di eh grandi tribunali per macroare eh e lui cita come best practice quello che avvenne anni fa quando una proposta del sole ventiquattro ore parliamo di trent'anni fa ehm venne poi accettata e cioè quello di affidare alle camere di commercio il registro delle imprese di lì una serie di conseguenze positive eh dice Ciancarella sia per la pubblica amministrazione che si è sgravata di una serie di incombenze affidate appunto alle alle camere di commercio sia per anche da parte delle imprese che hanno trovato un interlocutore più smart più ehm attento alla digitalizzazione e quindi anche dei risultati in termini di efficienza del servizio il tema viene riproposto da Ciancarella eh per la esternalizzazione di alcune funzioni giudiziarie è ovviamente una questione delicata riconosce l'autore ma in sostanza richiede rispetto di due principi il giudice cioè naturale precostituito per legge e l'autonomia della giurisdizione lasciando intatte le competenze della magistratura del CSM il resto è solo organizzazione e per costituzione a eticolo 110 spetta al ministro della giustizia si potrebbe partire dagli attuali tribunali delle imprese ampliandone le competenze all'intera area societaria concorsuale dell'esecuzione e lo spin off dei tribunali dell'economia la cui funzionalità è decisiva per attrarre capitali e competere sullo scenario europeo ora è un tema che in qualche modo era stato già una strada che era già stata tentata con la riforma del codice della crisi e dell'improvvenza una strada che appunto prevedeva dei tribunali con grandi competenze territoriali a livello di stretto di corte d'appello ma diciamo le forti tensioni provocate da questa possibilità indussero i legislatori a fare marce indietro e a lasciare ancora una serie di competenze sia in materia fallimentare che in materia societaria sia pur più ridotte ai tribunali ordinari i tribunali io diciamo guardo con attenzione perché sono ben consapevole delle difficoltà del processo svolto nelle forme che conosciamo ho sempre una certa diciamo prudenza in forme di privatizzazione tu cur della anche della però non c'è proprio una privatizzazione domenico no? cioè in questo caso come nella camera di commercio in realtà l'indirizzo della gestione l'organo di indirizzo del consorzio partecipa all'istituzione del mondo del produttivo e del lavoro enti pubblici come l'istat fondazione di origine bancaria e associazionistica l'ania l'abi gli ordini professionali le autorità di regolazione e garanzia come la consul l'antitrust cioè è comunque un sistema misto abbiamo già dimostrazioni di questo tipo sai quando noi diciamo privatizzazione normalmente è come dire prendo un pezzo dello Stato e lo gestisce il privato e diventa di proprietà del privato invece noi abbiamo anche esperienze positive di gestione di servizi pubblici misti dove c'è la presenza del capitale pubblico della presenza delle istituzioni pubbliche con e insieme le istituzioni private non è una privatizzazione to cure però sì c'è una formula diversa di costituzione del tribunale esternalizzazione esternalizzazione presuppone che ciò che è statale lo diventa sicuramente un po' meno devo dire che devo dire che l'esperienza della sanità privata dell'esternalizzazione di molti servizi sanitari in questo anno ci hanno fatto dopo che noi me compreso avevamo sempre esaltato il modello lombardo che però era comune anche all'Emilia Romagna anche al Veneto lo avevamo spesso diciamo segnalato come un sistema di eccellenza io non vorrei che ancora una volta si rischi scusa completo si rischi di avere la formula uno per le imprese e per i contribuenti più ricchi e più importanti nello scacchiere economico il che ci può stare è una giustizia per poveracci uso un termine un po' forte che invece potrebbe ancora di più stentare vedersi ridurre le risorse vedersi ridurre le competenze ora è chiaro che di fronte all'attuale situazione della giustizia ogni proposta deve essere valutata con attenzione perché il presente è talmente brutto che difenderlo a spada tratta è difficile però io ripeto io io non entro nel merito io non entro nel merito del modello e soprattutto non entro nel merito della funzionalità del modello proposto dico che il parallelismo con la sanità privata però secondo me non è calzante perché in un caso noi assistiamo all'esternalizzazione in segmenti di assistenza a privati che poi utilizzano i loro strumenti di gestione con il risultato appunto che arriva l'epidemia del covid e chiudo le mie cliniche diciamo evito di metterle in campo perché non è economico assistere un certo tipo di malattie e qui continuiamo ad avere una struttura che sostanzialmente è mista cioè è come dire e faccio la domanda se io affido la formazione scusami fammi finire fammi finire anche nella convenzione c'è un sistema misto perché chi convenziona è la regione che concede la convenzione e in presenza di comportamenti diciamo ma nella casa di il privato può essere sommesso però nella ma scusami ma nel consiglio d'amministrazione della casa di cura fatta la pesca non c'è seduto il comune non c'è seduta la regione e neanche l'ordine professionale ma però la differenza è sostanziale stare seduto in un consiglio d'amministrazione la camera di commercio è privato to cure no assolutamente no e allora è la stessa cosa e la questione secondo me scusa faccio una provocazione se ai consigli degli ordini dei medici degli avvocati viene affidata la formazione cos'è una privatizzazione della formazione la dovrebbe fare solo il ministero della salute di giustizia no perché l'ordine è un ente pubblico non economico è sempre un ente pubblico esattamente e quindi se io faccio un consiglio d'amministrazione dove inserisco una parte di pubblico con la partecipazione anche di enti privati o di enti misti pubblici privati non è un ente privato cioè secondo me siamo in un territorio diverso io ripeto l'esempio con la sanità la casa di cura vattela pesca non risponde a nessuno gli puoi disdire la convenzione se non l'ha rispettata ma la gestiscono secondo i loro criteri ed è quello che purtroppo ai noi succede è successo in un sacco di regioni anche quando si gonfia la spesa pubblica sanitaria però ripeto è un terreno di discussione vediamo se prospererà questa proposta o se no e magari poi guarderemo appunto il tema delle specializzazioni poi magari ci ritorneremo a proposito di formazione date agli ordini co al CNF che sarà un argomento che tratteremo in un altro momento oggi su questa settimana sono usciti diversi articoli io proseguirei invece secondo la scaletta che ci siamo dati perché stiamo un po' anche cominciando a sforare mi pare che l'ultimo argomento invece era rimanendo così un po' confindustriali no Brigida se possiamo fare la battuta rispetto al privato no in realtà è un articolo di Giovanni Cavalli sul Corriere della Sera dell'11 febbraio che fa un po' il punto ci eravamo lasciati dicendo nella segna stampa della settimana sforza dicendo che Draghi per la prima volta come diciamo tecnico o insomma rappresentante il governo tecnico faceva consultazioni anche con le parti sociali e ora facciamo il punto oggi dopo una più o meno una settimana sulle consultazioni avvenute sull'ampio consenso che egli avrebbe ottenuto come abbiamo visto prima magari lasciando da parte i temi più divisivi in maniera assunta e quindi da confindustria agli ambientalisti la spinta di tutte le parti sociali quindi avrebbe l'appoggio oltre che delle forze di Parlamento anche di confindustria di Anci con Antonio De Caro del presidente Abbi che lo sollecita Patuanelli poi dei sindacati quindi UGL di CISL CGL persino Landini dalla prima ora si è aperto all'appoggio a Draghi e anche la novità ulteriormente diciamo rispetto alla settimana scorsa anche alle associazioni ambientaliste con come WWF Greenpeace che forse non era mai accaduto probabilmente ci dice sempre il Corriere della Sera c'è un precedente in Bersani 2013 in ogni caso diciamo abbiamo un governo di larga potremmo dire largentese o anche oltre fuori dal Parlamento quindi speriamo bene insomma che ciò poi significhi anche che è una produttività dello stesso con l'appoggio del Parlamento che dovrà poi votare oltre la fiducia anche i provvedimenti si spera cioè non a colpi di decreto perché si è detto che non sarà un governo che riporterà al centro anche la funzione del Parlamento infatti speriamo che non sia a colpi di decreto e soprattutto peggio ancora di DPCM che secondo me è l'ultima di generazione l'ultima l'ulteriore degenerazione del governare a colpi di decreto no va bene noi andiamo in chiusura come al solito mi piace guardare un po' anche quello che sta succedendo all'estero c'è un articolo su un'intervista su Repubblica la difesa sbaglia tutto intervista al costituzionista Brian Calt e la decisione del congresso è una condanna non passerà parliamo di Trump chiaramente l'impeachment il costituzionalista punta il dito sulla difesa tenuta dagli avvocati di Trump e la domanda della giornalista un unico studio per sostenere conclusioni opposte come stanno veramente le cose e lui risponde con altri 150 costituzionalisti ho firmato un documento dove sostengo la legalità del processo e la tesi di quel mio articolo basato sull'analisi dei precedenti storici certo sostenevo che raramente vale la pena di perseguire un impeachment tardivo ma senza togliere nulla alla sua legalità è una pratica importata dagli inglesi mai esplicitamente scusa dalla legislazione americana in passato ci sono già stati scontri su cosa dice la costituzione in merito ilicito ma come posizioni perdenti invece gli avvocati di Trump le hanno prese per buone puntelli alle loro tesi perché dunque la difesa insiste sull'illegalità del procedimento chiede la giornalista su questo argomento la costituzione americana è imperscutabile non definisce con certezza il quando e il perché ma stabilisce chiaramente chi decide delle sorti di un presidente accusabile in pratica di qualsiasi azione sia riattenuta al reato dalla maggioranza della Camera una sticella bassa poi alzata tantissimo dall'affermazione che per condannare un presidente servono i due terzi del senato insomma è da sempre una decisione politica forse alcuni senatori credono sia davvero illegale processare Donald Trump perché fuori dalla casa bianca perché fuori dalla casa bianca di sicuro molti voteranno in suo favore per paura di perdere il consenso della base ci sono le prossime elezioni e forse sostenere che il procedimento è illegale è un modo per non confrontarsi davvero con le sue responsabilità eppure per la prima volta i senatori giudici sono anche vittime e testimoni oculari del crimine l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio un precedente storico esiste continua il costituzionalista quando Andrew Johnson fu sottoposto a impeachment nel 1868 aveva aggredito violentemente sia pure non fisicamente l'autorità del Parlamento si salvò grazie a un solo voto in più l'impeachment è un sistema di bilancio e solo il congresso può decidere su un presidente pure se i suoi membri sono emotivamente coinvolti poi alla domanda se era necessario un nuovo processo a Trump l'impeachment andrebbe usato solo se è sicuro di ottenere una condanna abbiamo d'altronde già visto come Trump si è uscito imbaldanzito dal processo di un anno fa meglio dunque qualcosa di simbolico ma più facile ottenere come la censura ovvero una dichiarazione di condanna formale senza altre conseguenze dopodiché insomma la partita è aperta servono mi pare 17 senatori se non ricordo male per poter poter prosperare l'impeachment sembra difficile che li possa ottenere perché nelle prossime elezioni tanti hanno paura di perdere nei loro collegi a seguito diciamo delle chiamiamo degli avvertimenti di Donald Trump chiamiamoli avvertimenti e quindi il partito repubblicano rischia ancora una volta di non riuscire a scrollarsi di dosso questa pesante eredità Domenico dimmi no la facevo la riflessione che in questa critica che comunque fa Kant rispetto anche a quello che è scritto nella Costituzione in cui sostanzialmente si lascia a un voto politico alla decisione su un fatto di reato noi non siamo molto lontani perché ricorderete che il il Parlamento è stato chiamato a pronunciarsi il Senato è stato chiamato a pronunciarsi sul sul caso Salvini e lì se nel voto fosse prevalso diciamo un voto favorevole a Salvini nel senso che si fosse ritenuto che l'azione di governo del Ministro fosse stata determinata dalla tutela di un interesse dello Stato e della collettività evidentemente il processo che si sta svolgendo anzi i processi che si stanno svolgendo uno a Catania e l'altro mi pare ad Agrigento non vorrei sbagliare a Parermo penso non si sarebbero potuti svolgere quindi è un po' proprio delle Costituzioni di fronte al reato commesso dal governante che sia il Presidente della Repubblica o che sia un Ministro da noi che lasciano appunto al politico al centro politico parlamentare la valutazione circa la possibilità o meno di proseguire il processo un'altra valutazione anzi un altro consiglio che vi do visto che abbiamo parlato prima di Netflix e Sky guardatevi The Comey Rule è una miniserie in due puntate belle lunghe però sulla figura di Jimmy Comey che è stato il direttore dell'FBI che ha indagato su Russia Gate e che è stato dopo un anno mandato a casa da Trump che inizialmente gli era stato molto favorevole perché pensava che di aver vinto le elezioni grazie al completamento che aveva avuto Comey sulle famose mail di Hillary Clinton e sul suo atteggiamento nel indagare anche la Clinton che probabilmente ha effettivamente avuto un rilievo di tipo elettorale oppure la storia è molto bella scritta bene tratta ovviamente da una specie di racconto autobiografico del direttore dell'FBI ma veramente molto interessante e girata bene guardatelo bene oggi abbiamo fatto ampiamente pubblicità a Netflix nonché questo è Sky ah questo è Sky siamo stati bipartisan siamo stati bipartisan in questo senso va bene è stato un piacere anche oggi confrontarmi con voi spero che sia reciproco e ringrazio i nostri ascoltatori e ci rivediamo la prossima settimana vediamo appunto come si andranno avanti le questioni di governo no appunto lo dicevo se 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 c'è c'è il cataclisma eh lo so ma il cataclisma quindi no non credo in questi cataclismi però se fosse sarebbe divertente e e no vi diamo anche appuntamento alla puntata d'approfondimento che faremo sulla questione delle specializzazioni l'ennesimo scontro interno all'avvocatura eh con ricorsi alla magistratura in questo caso al tar giusto? sempre il tar al tar sempre il tar c'è sempre un tar aggiungi un posto un tar a tavola vediamo che succede un tarlazzo un tarlazzo e quindi vi diamo appuntamento anche a questo approfondimento sperando di avere tutti i protagonisti di questa vicenda e molto probabilmente vedremo coinvolto anche Sanino perché Sanino è l'avvocato del CNF spesso e volentieri ah bene quindi quindi avremo quindi l'avremo tutti al tavolo di questa polenta per le questioni del doppio mandato quindi è un ho capito ho capito ho capito e insomma grazie a tutti grazie alla regia Denzo Stella che come sommi ci aiuta e di grande grande con la sua grande pazienza e professionalità arrivederci grazie a te Marco ciao ciao Domenico ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.